Abbiamo il risultato del nostro gioco, cioè abbiamo giocato la... Bene, allora, prima di guardare, secondo i vostri calcoli, che mi sa che Gambaro ha fatto invece di... Chi va in ceppio? Napoli, Frosio! Probabilmente il Napoli. 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 Vediamo. Cup de teatro? Non lo so, vediamo. Gambaro comunque... Secondo Rossi la classifica finale sarà Napoli-Udinese-Inter e quindi Napoli-Champions, vero? Secondo Serafini, Napoli-Udinese terze e passa in Napoli, vero? Secondo Frosio, Napoli senza problemi, secondo Gambaro, ammucchiata con tre punti... Come adesso? Addirittura zero punti alla Lazio. Zero punti alla Lazio per Rossi e per Gambaro, vai in Napoli, ma non facilmente. Beh, però il vantaggio che ha adesso degli scontri, Napoli probabilmente se lo potrebbe far valere appunto nell'ultima partita. Quindi penso proprio che potrebbe finire anche così.